Bentornate e bentornati in una nuova stagione di Radio C-Cup e in una nuova puntata. Io sono Manuela, con me c'è Giuseppe, e oggi issiamo le vele e salpiamo verso il mondo affascinante e spesso frainteso dei pirati. La nostra ospite di oggi, infatti, è Veronica Gambilare, divulgatrice che si occupa di storia marittima e pirateria, conosciuta sui social come Under the Jolly Roger. Dimenticate l'immagine romantica del pirata con gamba di legno, benda sull'occhio e pappagallo sulla spalla. Stiamo per esplorare la realtà dietro i miti e le leggende che hanno reso famosi questi avventurieri dei mari. Preparatevi a scoprire cosa c'è di vero e cosa è pura invenzione, mentre facciamo luce su un'epoca d'oro che ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Pronti a salpare? Bene, bentornati a Radio Cicap. Io sono Giuseppe e oggi come a registrare c'è Emanuela. Ciao a tutti! Allora, noi oggi abbiamo con noi Veronica, che è conosciuta sui social come Under the Jolly Roger e si occupa appunto di divulgazione per quanto riguarda la pirateria e la storia marittima. Allora, quindi quest'oggi come avrete capito parleremo di pirati che appunto sono tutti conosciuti per avere la benda sull'occhio, la gamba di legno e l'orecchino, vero? Sì, più o meno questo è l'immaginario, è l'immaginario comune in effetti. E cosa cambia però dall'immaginario comune a... da dove nascono insomma? Perché ci si immagina un pirata con questo aspetto quando si pensa... Eh, perché è un'immagine in realtà che nasce più o meno nell'Ottocento, diciamo così, e sotto alcuni punti di vista ha delle radici storiche, sotto altri no, e nasce per colpa, anche se non mi piace molto questa espressione perché in realtà è la colpa di nessuno, però nasce per colpa di letteratura e poi di cinema. Quindi è un'immagine in realtà molto romanzata del pirata, che poi nel tempo si è sedimentata, si è proprio cristallizzata nella mente delle persone e è molto difficile tradicarla in realtà perché comunque è una bella immagine, no? Cioè, un pirata con la gamba di legno, con l'orecchino, con la benda sull'occhio ce lo si ricorda, se non avesse tutte queste caratteristiche sarebbe meno carismatica forse come immagine, almeno io lo penso così poi. C'è un motivo? Da dove è nato? C'è stato veramente un pirata con questo aspetto oppure una cosa che si è costruita nel corso degli anni? Allora, con tutte queste caratteristiche, onestamente spero di no, perché sarebbe molto difficile vivere con una benda, con una gamba di legno e anche... Vabbè, l'orecchino forse no è più facile, però spero di no. Ci sono stati dei rarissimi casi, in effetti, di gambe di legno, però scarsamente documentati, troppo poco in realtà per farne una verità storica. E invece per la benda sull'occhio lì è molto più complesso, perché gira moltissimo questa notizia, secondo cui se la mettevano per adattare gli occhi al cambiamento luce e ombra del sottocoperta e dell'esterno. Però in realtà io e persone molto più autorevoli di me sono più propensi a chiedere che sia una bufala e che semplicemente la mettessero perché avevano perso un occhio, cosa in realtà probabilissima, visto la vita che facevano. Gamba di legno, anche questa complessa, giustificata, sempre per il fatto che facevano una vita molto violenta, che erano soggetti molto di frequente a ferite, mutilazioni e tant'altro, però anche quella non era la norma, diciamo così. Anche sull'orecchino, anche lì ci sono delle... Cioè, in realtà non lo sappiamo, è quello il problema, perché i pirati non parlavano di loro stessi, hanno scritto pochissimo su loro stessi, quindi per chi se ne occupa è molto difficile ricostruire la verità di queste cose. Cioè, nessuno ci ha mai detto... indossava un orecchino perché? Quindi noi possiamo fare tutta una serie di supposizioni realistiche o meno, mettiamola così. Ma hai detto prima... sono molto curiosa, perché hai detto prima che è un po' colpa... quest'immaginario è colpa dell'immaginario a sua volta, che poi è riproposta anche nei libri, nel cinema, però in realtà ci sono anche un po' tanti immaginari sui pirati. Quindi l'immagine dei pirati poi è andata avanti tantissimo, è una cultura pop, è un po' cambiata. Ti volevo chiedere, secondo te, se ci sono dei tratti comuni che si sono mantenuti un po' in tutti gli aspetti anche più pop dei pirati e perché? Cioè, qual è l'archetipo del pirata che è rimasto anche nel tempo? Ma io credo che la caratteristica forse principale che rimanga del pirata, al di là dell'aspetto estetico, ossia questa cosa che sono un po' ammantati di quest'aura di romanticismo, di libertà, di anarchia, e che in realtà forse tra tutte le cose è quella un po' più realistica perché, per carità, poi solo in parte e con tantissimi accorgimenti, però in effetti un pochino ci credevano loro a questa cosa, cioè a vivere una vita senza vincoli da parte di nessuno e a vivere una vita anarchica, anche se ovviamente erano concetti molto embrionali all'epoca, poi appunto con le dovute caratteristiche, perché la maggior parte dei pirati non lo faceva per vivere libero, la maggior parte dei pirati diventavano tali per il bottino. Erano molto materialisti in questo, diciamola così. Però credo che appunto questa cosa del romanticismo e della libertà proprio in sé come concetto forse è quella che è rimasta più di tutte e forse è quella che anche permea di più tutte le opere, sia di letteratura che di cinema, che sono state prodotte fino ad adesso. Ma perché vengono considerati dei romantici allora? Perché effettivamente quello che hanno fatto, inconsapevolmente non, perché c'erano alcuni che sapevano perfettamente quello che stavano facendo e sapevano perfettamente calcolare quanto impattanti sarebbero state le loro mosse a livello della società, quello che loro stavano facendo era di fatto una ribellione contro gli stati, perché si dichiaravano tra l'altro apolidi, quindi senza patria, senza meta, senza nulla. Loro non avevano nulla se non questa sete insaziabile di Bottino. Era questo il loro unico scopo e andavano proprio contro la società. Cioè loro si dichiaravano proprio al di fuori della società. Quindi effettivamente aveva delle radici storiche, politiche anche quello che facevano. Com'è cambiata poi? Allora noi stiamo parlando però quando ci riferiamo ai pirati ci si riferisce automaticamente alla cosiddetta epoca d'oro dei pirati, quindi tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Quindi per quanto tempo è andata avanti la pirateria così come la conosciamo per quel momento storico e quelli di adesso si possono chiamare pirati? È una bella domanda, hai toccato un punto secondo me fondamentale nel senso che quando uno pensa al pirata di solito pensa a Jack Sparrow, quindi o almeno adesso pensiamo a Jack Sparrow, mettiamola così, quindi ha un uomo sui 35-40 vissuto tra il 1650 e il 1750 più o meno che in effetti è quello arco temporale di riferimento. Poi ci sono alcuni storici che prendono come arco temporale un periodo molto molto limitato, c'è una ventina d'anni più o meno dal 1700 al 1626 una cosa del genere, altri che tendono ad allungarlo quindi va dalla fine del 1500 fino al 1730 più o meno, che io lo trovo più credibile sotto tanti punti di vista. Poi all'interno di questo periodo ci sono vari picchi. Però in realtà la pirateria è sempre esistita e adesso si fa fatica a parlare di pirateria perché non c'è più la pirateria storica, cioè non c'è il pirata di adesso, ovviamente non è quello che abbiamo noi in mente, però di fatto esistono e ci sono questi gruppi di fatto pirati veri e propri perché vanno ad assaltare mercantili o navi di altro tipo e tendenzialmente gli introiti di questi crimini vanno a finanziare il terrorismo. Quindi in realtà è un'attività molto pericolosa tutt'oggi, ci sono dei punti negli specifici luoghi al mondo che sono molto pericolosi proprio per questo motivo qua. Quindi in parte sì, si può ancora parlare di pirateria, di fatto sì, anche perché il pirata è un ladro del mare, quindi la pirateria finirà solo quando o non ci sarà più il mare o non ci saranno più gli uomini perché i criminali sul mare sono sempre esistiti, almeno io la penso così. Già che siamo in campo adesso di dare definizioni. Cosa cambia quindi tra i vari nomi con cui vengono chiamati? Cioè qual è la differenza tra un pirata, un corsaro, un bucaniere o ci sono anche altri termini? Sì, ci sono anche altri termini. Allora, di solito si fa molta confusione tra pirata, corsaro, bucaniere e filibustiere che ogni tanto vengono usati come sinonimi però hanno delle differenze e soprattutto tra pirata e corsaro che sono molto marcate. Chi è il pirata, se noi andiamo a leggere la definizione sul dizionario, è colui che ruba, saccheggia e uccide in mare. È piuttosto semplice in realtà come cosa. Il corsaro invece era legalizzato a fare quello che faceva. Al corsaro veniva data una lettera di marca o lettera di corsa, c'erano diverse formule per definirla, che di fatto era un contratto di lavoro che poteva essere erogato o da un sovrano o da un consorzio di privati e era esattamente un contratto di lavoro, quindi definiva i termini sia cronologici che geografici del suo lavoro. Poi una volta in mare si faceva un po' quello che si voleva, nel senso che il corsaro spesso e volentieri evadeva un po' dai termini del contratto. Quello era. Tant'è che, per esempio, spessissimo i corsari inglesi sono considerati pirati dagli spagnoli o i corsari spagnoli sono considerati pirati dagli inglesi. All'epoca e ancora adesso non è che sia cambiato tanto. Però di fatto un corsaro era legalizzato a fare quello che stava facendo. Il bucaniere non nasce come pirata. Il bucaniere nasce come cacciatore di maiali selvatici, a Tortuga. Perché Tortuga esisteva. Esiste tutt'oggi in realtà. È un'isoletta molto molto piccola a nord di quella che era ispagnola. E erano, semplicemente erano cacciatori di maiali selvatici, per lo più francesi, questi cacciatori, che durante il periodo in cui non si cacciava si davano alla pirateria. E tra l'altro erano conosciutissimi per avere un'ottima mira, perché cacciando praticamente sei mesi all'anno la mira ce la dovevi vivere, altrimenti non sopravvivevi. Tra l'altro vivevano in condizioni difficilissime. Era una vita veramente terribile quella del bucaniere. Poi, quando finiva la stagione di caccia, iniziava quella della pirateria. Quindi si alternavano un po' questi momenti. Filippo Stiere viene un pochino dopo, a livello cronologico. Quindi anche lì inizia il XVII secolo, più o meno. È un pirata che faceva parte di un'associazione piratesca, i fratelli della costa. Da un certo punto, un sacco di tutti questi manigoldi si sono messi insieme e hanno formato delle associazioni, un'associazione molto grande, e sono andati a saccheggiare le varie città spagnole, facendo razzie a destra e a manca e tra l'altro devastandole completamente. Quindi, cioè, è una parte importante della storia, anche questa, che purtroppo viene anche insegnata poco a scuola, forse. e queste sono le differenze principali. Poi ce ne sono altre di un pochino più sottile, però tendenzialmente queste sono quelle più marcate, ecco. Bene, grazie per questa illuminazione. Ha chiarito un po'. In effetti io li avrei dati quasi per sinonimi, almeno, se mi avessero detto immaginati un corsaro, avrei immaginato un pirata, ecco. Con la gamba di legno. Sì, esatto. Ma in effetti, cioè, ripeto, poi in mare non è che queste differenze, non è che fossero lì a dire no, ma tu sei un corsaro. No, non è che non funzionava proprio così, insomma, e appunto spesso e volentieri i corsari evadevano nella pirateria, era proprio l'ordine del giorno in realtà, quindi, appunto, era solo sulla carta questa cosa. Ma, tra l'altro, io ho un vaghissimo ricordo che anche all'origine di questi termini ci siano delle cose tipo bucanieri viene da barbacoa o me lo sto inventando. Cioè, era riferito a quello che faceva. No, no, è vero, è vero, è verissimo questa cosa che a me fa impazzire, tra l'altro, perché i bucanieri erano famosi per cazzare, appunto, e soprattutto per il metodo di conservazione della carne. Cioè, loro la fumicavano, quindi facevano proprio i barbecue. Ed era una tecnica, ora, la parola barbacoa in lingua, non mi ricordo il popolo dove proviene questa parola in realtà, però comunque erano nativi dei Caraibi e designa sia il metodo di affumicatura che proprio la griglia in cui venivano affumicate le carni. I bucanieri hanno imparato questa cosa dai nativi e poi sono diventati, cioè, vengono chiamati così proprio per via del barbecue. Quindi sono i grigliatori del mare. Sono i grigliatori del mare, infatti, cioè, in realtà questa cosa è abbastanza famosa perché in alcune fonti torna spessissimo che andavano, gli piaceva un sacco la carne affumicata, infatti, mangiavano praticamente solo quella, però ogni volta era un festino. Ci sono delle belle descrizioni in merito, in effetti, molto divertenti. Però, dato che stiamo parlando di metodi di conservazione, a me viene spontanea una domanda, perché io immagino uno che salpa per il mare per tot mesi, anni, senza sapere di preciso magari quando vedrà di nuovo la terraferma, come venivano conservati gli alimenti, cosa c'erano sulle navi, cosa si portava, in cosa consisteva la dieta, insomma, dei pirati e soprattutto quali rischi questo comportava, mi viene in mente lo scorbuto o altre malattie? Allora, in realtà è un argomento veramente molto interessante, perché a differenza di un marinaio semplice, sia di un mercantile che di una nave da guerra, il pirata mangiava molto meglio, perché intanto non erano previsti viaggi così lunghi, a differenza appunto dei marinai normali che prevedevano anche di stare mesi e mesi in mare, non che i pirati magari non lo facessero, però tendenzialmente i viaggi erano più brevi, ma per forza di cosa, perché non gli conveniva stare in mare così tanto tempo, a meno che non trovassero proprio nessuna preda in giro, allora erano costretti ovviamente a stare, a star fuori in mare finché non trovavano qualcosa, ma soprattutto perché tendenzialmente, soprattutto gli spagnoli, io parlo dell'epoca d'oro della pirateria, poi sarebbe interessante approfondire anche il resto, anche se sono argomenti piuttosto difficili in realtà, però io parlo per quell'arco temporale lì, soprattutto gli spagnoli si rifiutavano di mangiare il cibo, anche per, erano tra l'altro in vigore varie leggi che non lo permettevano e limitavano la coltivazione di prodotti locali, queste cose qui, si rifiutavano di mangiare il cibo locale, il che era un grosso problema in realtà perché nelle colonie c'era quel cibo lì e ora che aspettavano le derrate alimentari della Spagna praticamente morivano di fame. I pirati invece no, nel senso che si erano mescolati spesso e volentieri le popolazioni locali e quindi non solo sapevano preparare quel tipo di cibo che riuscivano a reperire più facilmente ma lo sapevano anche cacciare anche perché poi moltissimi indiani moltissimi moltissimi uomini delle popolazioni locali si unirono ai pirati e quindi di fatto c'era uno scambio continuo tra chi abitava lì e i pirati si mescolavano continuamente quindi da questo punto di vista qui si mangiava molto meglio e tra l'altro in alcuni casi era proprio il motivo per cui ci si dava la pirateria cioè si mangiava meglio che sembra una stupidaggine però da come si mangiava sulle navi una volta forse forse li capisco un pochino poi a livello di conservazione ovviamente c'era moltissima carne affumicata e di solito si cercava di conservare qualcosa con le spezie queste cose qua e poi il problema era anche l'approvvigionamento di acqua era per quello che il il pirata sì però il marinaio in genere è molto legato anche all'immaginario dell'alcol o comunque al al rum esatto al rum a tutte queste cose qua perché l'acqua dopo un po' diventa diventa cattiva in mare non è più possibile berla l'alcol invece si conserva molto più facilmente e quindi sì anche per questo cioè il connubio diciamo ha delle radici realistiche mettiamola così ma adesso scusa mi è venuto in mente perché stavamo parlando di come sono come non sono come si chiamano come non si chiamano e mi è venuta in mente una cosa di cui parlavamo con Giuseppe prima chiamiamole pilatesse corsaresse quello che sia ma c'erano anche donne in questo mondo di barbe nere allora sì non erano cioè era comunque un mondo a prevalenza maschile quello bisogna metterci una pietra sopra però soprattutto ultimamente gli studi recenti tendono ad evidenziare la presenza di alcune donne tra l'altro molto potenti anche in tanti equipaggi non solo equipaggi pirata ma anche equipaggi di mercantili in genere non ne sappiamo l'esistenza perché una volta le donne non venivano registrate a bordo quindi se un marinaio che poteva essere un membro della marina oppure un non so un semplice marinaio di un mercantile si portava a bordo moglie figlia sorella quello che era veniva registrato solo l'uomo non la donna non le donne anche perché c'era un grosso problema nel senso che comunque a prescindere da quanti fossero veniva data una reazione di cibo quindi tendenzialmente se la dovevano dividere il problema era molto grosso all'epoca e per quanto riguarda le piratesse abbiamo le più famose che sono Anne Bonny e Mary Read sono le due più famose dell'epoca d'oro anche se in quegli anni lì ce ne sono stati altri due di cui si parla molto meno perché abbiamo molte meno fonti e poi ovviamente c'è stata Ching Shih che è stata è universalmente riconosciuta come il pirata a prescindere dal genere più potente che sia mai esistito ha tirato su una flotta di decine di migliaia di uomini con centinaia di giunche e di fatto ha messo in ginocchio l'impero cinese tra il 1805 il 1810 più o meno ha fatto un disastro e le è stata poi offerta l'amnistia le ha accettato perché ormai è probabilmente stufa di fare quello che stava facendo perché effettivamente le avevano messo un po' alle strette però aveva completamente messo a ferro e fuoco le coste cinesi quindi all'epoca aveva fatto un disastro e poi anche nell'antichità ce ne sono alcune il problema è sempre quello che già abbiamo poche fonti sui pirati uomini sulle piratesse donne veramente sono tanto tanto poche quindi è difficilissimo ricostruire la storia delle piratesse e a proposito di fonti a me sorge spontanea la curiosità come come ci si informa come si studiano i pirati e allora è un enorme problema perché dell'antichità abbiamo poco e quindi a parte appunto fonti più o meno autorevoli non è che si rischia a costruire tanto però il problema più grosso a monte è il fatto che i pirati non scrivevano di loro stessi cioè non hanno lasciato testimonianze di loro stessi salvo rarissimi casi che sono un po' le bibbie diciamo della storia della pirateria sull'epoca d'ora iniziamo già a avere qualcosina di più perché c'è stato il capitano Johnson che fino a poco tempo fa veniva creduto uno pseudonimo di Daniel Difo però adesso pare che siano due persone diverse quindi io le tratto come due persone diverse capitano Johnson ha scritto questo testo la storia generale della pirateria o dei pirati dipende dall'edizione in cui racconta le biografie di dei pirati più famosi della sua epoca quindi è una fonte imprescindibile quella in realtà lì non si capisce quanto si sia inventato e quanto no però in effetti controllando anche nei registri delle non so dei giudiziari negli atti giudiziari queste cose qua i conti tornano quindi probabilmente si è inventato molto poco in realtà c'è stato un bucaniere che ha scritto che ha scritto sui bucanieri che si chiama Alexandre si chiamava Alexandre le vie e anche questa è una delle fonti più importanti della storia della pirateria ed Empier che è stato anche lui un pirata ha fatto praticamente avviato in tutto il mondo e ci ha lasciato dei diari importantissimi questo per quanto riguarda l'occidente l'oriente abbiamo veramente pochissimo non abbiamo quasi nulla quindi tutto quello che possiamo ricostruire lo ricostruiamo tramite la certi di fonti coeve anche lì atti giudiziari magari registri di spedizioni ma è veramente molto poco si fa tanta tanta fatica soprattutto si fa fatica a distinguere quello che è vero e quello che non è vero perché non c'è un termine di confronto se io ho un testo che mi racconta una determinata vicenda non ho null'altro con cui confrontarlo quindi quello è è un grosso gap purtroppo questo ma in oriente ne parlavano meno perché c'erano non so meno pirati almeno da quello che sappiamo non so faccio per dire nell'attuale Giappone cioè c'erano anche lì ma ne parlavano meno e allora l'idea che mi sono fatta io però è un'idea personalissima che potrebbe fare acqua da tutte le parti se parlate con cioè se vista da un esperto se considerata un esperto è il fatto che era talmente antodiffusa la pirateria che veniva trattata come una cosa naturale e quindi di fatto nessuno ne parlava anche perché i contatti con l'impero e l'imperatore erano molto frequenti da una certa data in poi perché prima ovviamente no veniva trattata proprio senza grossi problemi e tra le fonti principali della pirateria da giapponese ci sono i missionari gesuiti che erano andati in Giappone per evangelizzarlo quindi lì c'è tutta c'è una storia affascinantissima e stranissima al tempo stesso perché ci sono questi portoghesi che raccontano dei pirati giapponesi e sono sono dei testi veramente incredibili da questo punto di vista qui però lì la pirateria andava veramente forte ma a seconda delle epoche a seconda della posizione del luogo che noi consideriamo c'è sempre stata pirateria nel mondo ci sono stati dei picchi poi ovviamente però ogni stato più o meno ha la sua epoca d'ora della pirateria più o meno e i pirati in che modo hanno contribuito quindi con le loro esplorazioni appunto allo sviluppo della cartografia delle mappe cosa c'è di vero nelle famose mappe del tesoro tracciate proprio con i trattini e la x alla fine e ci vuoi parlare un po' di questo? allora come contributo alla cartografia io non lo so calcolare onestamente secondo me non ce n'è stato neanche uno perché se andavano a esplorare qualcosa se lo tenevano per loro perché ovviamente poteva essere un porto sicuro in cui rifugiarsi quando erano inseguiti quindi non credo che cioè la vedo proprio come un conflitto di interesse il fatto che abbiano diffuso ad altri le loro mappe e altro enorme conflitto di interessi sono le mappe del tesoro perché non esistevano il tesoro sepolto è una delle tante delle tante bufale una delle tante mitologie passatemi il termine che sono state ci sono state passate alla letteratura perché ai pirati non serviva a nulla seppellire un bottino a loro serviva fare un sacco di soldi in poco tempo e sperperarli in una due notti forse una cosa del genere quindi in quest'ottica qui proprio seppellire il bottino era fuori dal mondo e di conseguenza le mappe non servivano a nulla ci sono stati credo due casi nella storia in cui è stato sepolto un bottino ma poi è stato è stato tirato fuori subito pochi giorni dopo forse quindi purtroppo tesori sepolti non so se ce ne siano ancora negli sparsi in giro che fa crollare un po' di miti sono triste io stessa per questo purtroppo però la verità è così quindi anche se andiamo a tortuga col metal detector niente non ma lì proprio secondo me nulla perché essendo territorio dei bucanieri cioè al massimo nel senso al massimo spendevano subito quindi lì proprio no c'è qualcosa sul tesoro di kid oppure su quello di le vasser però sono storie talmente intricate che o ci si mette ci si dedica l'intera vita a cercare questa cosa qui quello di kid ancora ancora quello di le vasser magari capisco il fascino e tutto quanto kid è già stato detto che è stato trovato 500 volte dopo quindi lì non credo poi c'è affascinante quindi dei possibili tesori ci sono aspetta perché ce l'hai detto con leggerezza però sono leggendari in effetti potrebbero potrebbero diciamo così secondo me sono più quelli le navi affondate con un sacco di soldi in mare che quelli sepolti quello sicuramente poi lì bisogna avere anche tanta fortuna certo perché noi magari ce l'immaginiamo appunto come si vedono nei film che combattono fra navi pirata e si rubano i sacchi di monete eccetera però come dicevi prima combattevano principalmente contro gli stati quindi anche contro le flotte c'erano delle battaglie navali vere e proprie si allora tendevano a non litigare tanto tra pirati perché non era loro interesse litigare litigare tra di loro più che in realtà andare contro una nazione nel vero senso della parola era proprio saccheggiare i mercantili non si sarebbero mai messi a saccheggiare una nave da guerra non aveva alcun senso anche perché tendenzialmente loro potevano contare su un armamento di fortuna perché loro vivevano di quello che raccattavano su una nave da guerra invece aveva dei fondi c'è uno stanziamento di fondi dietro incredibile quindi è chiaro che erano molto più preparati anche a livello combattivo i soldati che c'erano nella nave da guerra i pirati no c'erano quattro cialtroni voglio dire poveretti più o meno quindi tendevano a attaccare soprattutto mercantili indifesi o comunque con poca difesa al seguito navi da guerra le evitavano come la peste assolutamente poi anche lì effettivamente noi siamo abituati a pensare al bottino di un pirata come a questo scrigno pieno di monete di oro e d'argento anche lì era un po' un miracolo trovare una cosa trovare uno scrigno pieno di monete d'oro perché la maggior parte del bottino dei pirati erano veramente oggetti d'uso comune magari stoffe preziose spezzi erano valutatissime all'epoca erano ambitissime monete era era un bel colpo era un bellissimo colpo però addirittura loro consideravano bottino le stoviglie le velle di ricambio le cime di ricambio cioè qualsiasi cosa in realtà potesse servirgli poi è chiaro che se trovavano da da rivendere tanto meglio anzi sarebbe stato molto meglio effettivamente però bottino l'orio l'orio era un po' raro a me viene in mente un aneddoto a proposito di scrigni del tesoro che magari è un po' più conosciuto però di cui magari ci puoi spiegare qualcosa raccontare qualcosa e sto parlando del baule di medicinali richiesto da barba nera come vuoi come riscatto è bello questo è uno dei miei preferiti tra l'altro e niente barba nera a un certo punto ora non si sa se fosse lui malato o se probabilmente fosse qualche qualche membro della ciurma ammalato probabilmente se filide perché in realtà era comunissimo all'epoca soprattutto tra i pirati e a un certo punto ha come dire di fatto ha ricattato un porto intero il porto di Charleston per farsi dare una valigetta piena di medicinali perché gli servivano all'epoca valevano più dell'oro e c'è stata una vicenda dietro è riportata in più fonti in modo un pochino diverso però è stata una vicenda incredibile perché lui era lì nel porto che teneva sotto scacco praticamente tutte le navi perché aveva una nave da guerra bella potente barba nera si era fatto su una nave non da poco e aveva mandato alcuni dei suoi dei suoi uomini a prendere proprio ad andare a prelevare questa cassetta di medicinali insieme a due cariche importanti della città e solo che questi non tornavano ma non che non tornassero i delegati diciamo così cioè i cittadini non tornavano i pirati e poi si era scoperto che in realtà erano ubriachi perché andavano a trovare dei loro amici lì vicino poi la vicenda varia ci sono vari aneddoti su questa cosa qua però più o meno è andata così barba nera era arrabbiatissimo perché questi dovevano tornare nel giro di pochissimi giorni ci hanno messo il doppio poi hanno incontrato le tempeste insomma c'è stato un disastro dietro però lui è riuscito ad ottenere quello che voleva cioè ha avuto questa questa cassetta di medicinali che all'epoca appunto valevano più dell'oro quindi per ottenerla ha dovuto rapire come io ho dei ricordi un po' vaghi ha dovuto rapire il figlio o un bambino sì c'era anche questa cosa che si era tenuto il figlio oltre a tutta una schiera di prigionieri si era tenuto il figlio di un aristocratico locale se non sbaglio ora non mi ricordo non mi ricordo i nomi però si ne aveva fatte veramente tutti i colori quella volta lì era stata abbastanza documentata in realtà quella cosa lì quindi può esserci del vero e dato che abbiamo tirato fuori barba nera se tu invece dovessi scegliere decidere qual è il tuo pirata preferito o i tuoi pirati preferiti allora questa è una domanda molto difficile per quanto mi riguarda però io direi sicuramente Samuel Bellamy per quanto riguarda l'epoca d'oro nostra e anche Bartolomeo Roberts non era da meno passando invece in oriente forse Yagiro che anche lì però storia molto fumosa non si capisce non si capisce molto purtroppo e sicuramente Ching Shih che è stata la piratessa di cui vi ho parlato prima però se ci penso me ne vengono in mente decine quindi direi di chiudere qua i miei pirati preferiti perché sennò veramente vado avanti fino a domani di questi l'unico che non è ancora stato rubato da Oden One Piece forse è l'ultimo che hai citato tutti gli altri sono presenti forse è l'ultima sì forse gli altri ormai ci sono scusate siamo in guerra mi taccio Giuseppe beh ma so che comunque ne hai parlato tanto di One Piece e lì ci sarebbe da approfondire tantissimo cosa c'è di vero cosa c'è di inventato su cosa sono basate tante storie sì perché cioè a prima vista in realtà uno magari può pensare che abbia ripreso solo i nomi dei pirati però io credo che Oda che è il mangaka che sta il mangaka di One Piece credo che abbia letto veramente un sacco di libri sui pirati e stia prendendo spunto un sacco perché ad un occhio un pochino più attento magari risaltano dei particolari che che sono veramente strabilianti non solo nelle vite nei nomi ma proprio anche nell'assetto generale della storia è veramente incredibile quindi in realtà è One Piece per quanto possa essere poi cioè io ne parlo con venerazione di One Piece perché per me è un'opera che va va oltre qualsiasi cosa però per quanto possa essere demenziale la storia ha un sacco cioè è veramente realistica dietro a livello di pirateria sotto alcuni punti non so tutti ovviamente però sotto alcuni punti di vista è veramente molto fedele alla realtà a livello concettuale proprio invece per quanto riguarda i miti e le cose un po' inventate scorrettezze che alle quali si pensa di solito quando ci si immagina i pirati vuoi farci qualche esempio ti viene in mente qualcosa beh delle mappe ne abbiamo già parlato benda sull'occhio anche l'orecchino l'orecchino è vero che l'orecchino serviva per io ho sentito questa storia qua allora un pirata si comprava un orecchino d'oro per potersi permettere di pagare la sepoltura nel caso dovesse morire è vera o è proprio una cosa sparata allora io tendo questa me l'ero dimenticata in effetti perché tendo a rimuovere le cose spiacevoli perché secondo me questa veramente è una delle poche cose su cui potrei metterci la mano nel fuoco nel senso che ora per quanto fossero solidali tra di loro io tendrei a escludere che una ciurma si sarebbe subbarcata l'onere di un cadavere da portare per miglia e miglia via mare in un posto dove voleva essere sepolto cioè era pericolosissimo portare un cadavere in mare e in effetti si passava sempre ma anche tra le più alte cariche dei corsari o comunque anche tra le veramente più alte cariche della marina inglese francese o qualsiasi cosa se qualcuno moriva in mare veniva avvolto in una vela una palla di cannone agganciata sui piedi di solito veniva gettato in mare era questo il funerale che veniva fatto e era il funerale che tutti i marinai avrebbero voluto probabilmente perché era pericolosissimo trasportare un cadavere da un posto all'altro quindi ripeto per quanto potessero essere solidari tra di loro però tendo veramente ad escludere che un orecchino sarebbe bastato per pagarsi una cosa del genere anche perché considerato quanto poco valore davano alla loro stessa vita la sepoltura non era tra i loro sicuramente non era tra le loro priorità questo mi sento di dirlo proprio con grande sicurezza bene invece volevo chiederti come si riconosce abbiamo parlato del fatto che i pirati magari tendevano a non farsi la guerra tra di loro però come venivano riconosciuti in mare e cosa c'è di vero magari nelle varie bandiere i Jolly Roger è una cosa che veniva esposta proprio per farsi riconoscere sempre oppure magari solo al momento di un arrembaggio ecco allora era una cosa che veniva esposta tra l'altro con delle tempistiche ben precise perché se veniva allora nel senso quando noi veniamo i film in cui ci sono sempre le bandiere queste bandiere che sventolano è un po' un'imprecisione perché le bandiere tendono a rovinarsi molto spesso quindi vengono esposte solo nel momento in cui viene incontrata un'altra nave o vengono incontrate altre navi di solito ci sono solo le vele che sono spiegate le bandiere non vengono dissate se la nave è da sola perché le tempistiche perché se i Jolly Roger quindi la bandiera di pirati il nome della bandiera di pirati veniva esposto troppo presto si rischiava di far scappare via la preda se veniva esposto troppo tardi si rischiava una reazione molto forte nel senso i pirati combattevano molto poco perché facevano leva soprattutto sulla loro teatralità e Barbanera era espertissimo in questo e sulla paura che incutevano nelle prede di turno nel momento in cui loro esponevano una bandiera troppo tardi rischiavano appunto che l'equipaggio si spaventasse a tal punto che imbracciasse le armi e loro non volevano una cosa del genere perché loro si aspettavano di non dover combattere la maggior parte delle volte poi capitava ovviamente che ci fossero gli allenvaggi e lì si le cose diventavano molto 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 violente però tendenzialmente preferivano non combattere il fatto che adesso ci sia tutta questa estetica del Jolly Roger quindi con un sacco di simboli diversi è un po' un frantendimento cioè non è che ogni ciurma avesse il suo però venivano utilizzate una serie di simbologie che poi magari ogni capitano metteva insieme in un certo modo però quasi tutti quelli che si trovano su internet adesso o sono attribuiti al pirata sbagliato sono falsi purtroppo il discorso sui Jolly Roger è molto molto complesso perché di Jolly Roger materiali noi ne sono rimasti solo due che sono molto pochi in realtà e sono molto tardi uno è in America uno credo sia in Finlandia se non sbaglio uno è rosso e uno è nero che anche qui la storia dei colori è anche lì è molto complessa perché ci sono varie teorie in merito quindi noi possiamo ricostruire la storia del Jolly Roger solo dalle descrizioni che però anche lì sono molto traggono molto in inganno perché per esempio in tante descrizioni c'è scritto testa di morto non c'è scritto teschio quindi cos'è una testa di morto è una testa decapitata è un teschio le tibie le classiche tibie sono sopra il teschio sono dietro sono sotto sono di lato ci sono poche indicazioni in merito quindi le ricostruzioni che stiamo facendo adesso noi a livello grafico sono molto fantasiose da questo punto di vista qua cioè dobbiamo sopperire alla mancanza di fonti con un po' di fantasia e un po' di logica anche mi permetto di dire però è un discorso veramente complesso perché appunto non abbiamo le fonti intanto se chiedi a mia mamma sicuramente la capa di morto è un teschio perché quando da ragazzina mettevo tipo i full art con i teschi dicevo che c'erano le cape di morto quindi se è una fonte affidabile ce l'abbiamo in tutto questo abbiamo parlato di persone mentre erano già nel pieno della loro carriera piratesca ma come diventavano pirati cioè erano solo persone della tortuga che si imbarcavano venivano da fuori come funzionava l'ingresso nella pirateria eh allora questa è una domanda molto interessante perché quasi tutti i pirati ma veramente una percentuale altissima prima di essere pirati erano marinai quindi tutto il background del marinaio di fatto era convergeva in quello del pirata perché si decideva di farsi pirata c'erano diverse motivazioni alcune anche molto molto profonde e complesse però tendenzialmente ci si faceva pirati perché la vita del marinaio era veramente durissima da sopportare non solo per le condizioni del lavoro in sé ma anche perché spesso e volentieri i superiori erano veramente atroci trattavano l'equipaggio in modo terrificante le punizioni erano oltre ogni misura di conseguenza un equipaggio si ammutinava spesso e volentieri però l'ammutinamento era pagato era punito molto molto in modo molto molto duro una volta c'erano diversi modi per cui uno si poteva fare pirata le motivazioni più o meno erano sempre quelle quindi o povertà o perché venivano trattati male dei superiori o perché non vedevano non vedevano la paga dopo magari anni di servizio tendenzialmente erano quelle non era gente benestante che si faceva pirata era gente molto povera di solito e poi sulle modalità con cui si diventava pirati l'ammutinamento è uno di questi non era quello più frequente però era uno dei tanti altrimenti semplicemente si prendeva una barca piccolina una canoa e ci si metteva a pirateggiare a razziare qualcosa e poi di volta in volta si passava a navi sempre più grandi ci sono equipaggi interi che si sono formati su un piccolo nucleo di pirati poi sono diventati sempre di più perché i pirati tendevano a far numero cioè tendevano a essere tanti e sovraccaricare le navi poi c'erano anche altri metodi però diciamo questi erano quelli più più comuni c'è stato anche qualcuno che ha fatto il percorso inverso perché un vago ricordo tipo di un pirata che è diventato a un certo punto membro di qualche marina o era una sì sì no era era molto frequente non tanto in occidente quanto in oriente in oriente cioè era un po' il percorso standard del pirata perché tendenzialmente i pirati in oriente soprattutto quelli molto potenti a un certo punto venivano contattati dalle autorità e gli veniva detto senti passa il nostro servizio diventa un corsario e di solito accettavano ed è stato appunto il destino di Qin Shi o Changi Sao come la si voglia chiamare che è sempre la piratessa di cui parlavamo prima ma di tantissimi pirati cinesi, giapponesi cioè venivano semplicemente assoldati tra le fila dell'esercito diventavano dei generali quindi era era molto frequente la cosa in occidente un po' meno in oriente invece era quasi all'ordine del giorno questa cosa vabbè quindi noi non ci siamo saputi tenere no scherzi a parte in occidente c'è qualcuno famoso che potremmo riconoscere non so da qualche battaglia storica da qualche evento particolare che era un pirata in passato beh c'è Barbarossa che era lui era un musulmano in realtà era un non mi ricordo se fosse mezzo greco mezzo turco una cosa del genere e lui di fatto ha messo a ferro e fuoco le coste italiane per un sacco di tempo ed è leggendaria la sua rivalità con Andrea Doria che era uno dei più importanti ammiragli della marina genovese dell'epoca è leggendaria la loro la loro rivalità anche in Italia abbiamo avuto un periodo d'oro della pirateria non di pirati italiani purtroppo ma di cioè l'abbiamo subita più che fatta noi la pirateria in effetti i pirati italiani purtroppo c'è un po' o almeno abbiamo poche testimonianze di pirati italiani noi noi l'abbiamo subita l'abbiamo subita soprattutto dai musulmani in questo senso qui perché venivano spesso e volentieri a razziare le coste le coste italiane e non solo italiane arrivano addirittura fino in Islanda e partivano dal Nord Africa e lì era diventato veramente un grosso problema cioè si faceva fatica a contenerli poi col tempo il fenomeno si è un po' un po' evaporato però ci sono voluti secoli perché venisse esaurito del tutto la pirateria barbaresca si è esaurita nel 1800 più o meno e continuava dal 1400 poi è chiaro che cioè l'exploace è stato nei primi secoli 1300, 1400, 1500 più o meno facciamo 1400, 1500 in particolare però appunto si è esaurita veramente l'altro ieri praticamente e quando di preciso è finito più o meno il periodo d'oro dei pirati c'è i motivi cosa allora i motivi che quando non ci sono pirati di solito c'è la pace perché i pirati prosperano quando ci sono le guerre tendenzialmente che è vero e no però non è una regola però di solito è così e si è esaurito credo potrei sbagliarmi però verso la fine del 1500 più o meno è un fenomeno che si è esaurito in quegli anni là poi ha avuto un altro picco nel 1800 che lì ci sono delle storie interessanti in effetti però sì il picco è stato quello prima dell'ultima curiosità vi ricordiamo che da ottobre a novembre e poi da marzo ad aprile Radio Cica pesce tutte le settimane di giovedì sulle principali piattaforme di podcasting se non volete perdervi nemmeno una puntata cliccate sulla campanella se volete aiutare il podcast a crescere ancora di più poi potete mettere stelle mi piace recensioni e condividere le puntate più belle con chi pensiate possa essere interessato per farlo conoscere anche a loro però invece i pirati avevano e c'è rimasta qualche traccia forse questo più difficile delle loro canzoni una tradizione musicale tipo il neomelodico dei pirati o no? allora sarebbe molto bello di tracce no però considera che è il discorso che ho fatto prima cioè le canzoni che cantavano i pirati erano le stesse che cantavano i marinai quindi tutti gli stiscianti che conosciamo adesso anche se sono molto tardi molto sono piuttosto recenti in realtà perché sono di un background che parte dal 1800 più o meno magari un po' più antico nel 1700 però il clou è stato nel 1800 e sicuramente gli piaceva un sacco cantare perché il musicista era pagatissimo cioè era era un ruolo ambitissimo nelle giornate pirata erano ricercatissimi i musicisti però non abbiamo purtroppo delle tracce loro c'è un'neddoto molto carino in cui c'era questa ciurma non mi ricordo di che pirata ma mi sembra debba essere un minore se non sbaglio che a un certo punto si sono messi a musicare un breviario un libro di chiesa così e a metterci dentro un sacco di uscenità dentro mentre l'altro suonava il violino dietro erano molto goliardici in questo però purtroppo di tracce non ce ne sono rimaste se non quelle che poi abbiamo ci siamo inventati noi moderni peccato concordo ma invece per la letteratura i pirati in letteratura letteratura beh come dicevo prima è stata la letteratura alla fine a fondare il mito del pirata no e probabilmente uno dei primi è stato stevenson con l'isola del tesoro quindi con con silver e con la gamba di legno che in realtà non aveva la gamba di legno silver aveva la stampella però tutti se lo dimenticano e lo pensano con la gamba di legno va la stampella però probabilmente è stato proprio stevenson il primo a fondare il mito del pirata vero e proprio con la mappa del tesoro col tesoro nascosto cioè lì era una storia bellissima tra l'altro e poi tanti hanno continuato anche il nostro Salgari si è molto inserito in questo anche se lui ha portato una pirateria che nessuno conosceva prima perché lui ha descritto la pirateria in Malesia con Sandokan che è stata una cosa straordinaria all'epoca perché lui viveva a cavallo tra il 1800 e il 1900 e ha fatto uno studio veramente incredibile all'epoca e ci ha parlato di pirati che nessuno sapeva che esistessero dove nessuno sapeva che ci fossero che esistessero quindi lui ha fatto una cosa incredibile e non solo perché poi ha parlato anche del io sto parlando di Sandokan ovviamente ma poi c'è il Corso Nero ci sono veramente tantissimi libri suoi che sono memorabili sono indescrivibili e altri che hanno che hanno proprio costruito l'immaginario di pirata non ci si pensa di solito però sono gli illustratori sono meno famosi e sono stati quelli che hanno illustrato l'isola del tesoro quindi Howard Pyle e Wyatt sono due illustratori americani tra l'altro Pyle è morto a Firenze ed è sepolto a Firenze c'è la sua tomba lì ed è questo illustratore geniale bravissimo che ha realizzato alcune delle immagini più famose che ci sono dei pirati magari non sono alla portata di tutti nel senso che magari non vengono conosciute però hanno proprio costruito loro l'immagine del pirata quindi con l'orecchino con questa quest'aria un po' dandy magari anche il pirata belloccio quindi col cappello lungo un po' di barba l'orecchino è stato lui che le ha costruite insieme alla parte di letteratura quindi sono stati imprescindibili loro e dopo sono arrivati fino ai giorni nostri cioè loro l'hanno costruito e hanno messo le fondamenta e poi poi sono arrivati fino ai giorni nostri il pirata un po' belloccio quindi alla Jack Sparrow qua ritorna alla Jack Sparrow c'è un'illustrazione di Pyle non dico che ricorda Jack Sparrow però c'è questo pirata proprio che lui se la crea cioè si vede proprio che se la crea nell'illustrazione e ecco il capello un po' lungo il pizzetto ricorda molto vagamente Jack Sparrow però che poi sui piedi se non sbaglio c'è anche una cassa con un sacco di d'oro è una bellissima illustrazione tra l'altro quella lì però appunto è un'illustrazione di fantasia è il pappagallo perché è il pappagallo altra storia carina altra storia carina è il pappagallo in realtà anche quella è una storia che potrebbe avere delle cioè potrebbe ha delle ha una qualche verificità storica dietro perché i pappagalli erano tra gli animali da compagnia più ambiti dall'aristocrazia europea dell'epoca e quindi i pirati non solo i pirati i marinai in genere siccome non costava nulla andare a prendersi uno stormo di pappagalli fondamentalmente ne catturavano un sacco e li rivendevano poi a chi li avrebbe portati in Europa poi poveretti cioè su non so dieci che ne catturavano forse ne arrivava uno in Europa forse ne arrivava uno in Europa però erano molto apprezzati come animali da compagnia perché aiutavano a contrastare la noia che era uno dei problemi più grossi all'interno di una nave in quegli anni e quindi se li tenevano spesso e volentieri come animali da compagnia non è così non è così stupida come come cosa in effetti ha delle radici profonde non che tutti i pirati ci avessero il pappagallo soprattutto magari non parlava sempre però non era raro vedere delle gabbie di pappagalli all'interno delle navi pirata delle navi in genere mettiamola così invece riallacciandoci a Jack Sparrow sei cosa ne pensi dei vari film sicuramente hanno dato un contributo comunque a me sicuramente perché io quando ho visto il primo sono impazzita cioè già comunque avevo avevo delle simpatie poi quando ho visto Jack Sparrow ho deciso che avrei dovuto informarmi seriamente e lì poi per carità cioè sono sono film che a livello storico hanno poco insomma anche se bisogna dire che sono stati che appunto a livello storico sono stati curati da uno dei più famosi storici della pirateria tuttora viventi che è David Cordingly che poi per carità cioè non so quanta consulenza gli abbia fatto poverino però comunque se ne è occupato lui e di storico appunto hanno poco però hanno contribuito in modo cioè più che incisivo a formare l'immagine del pirata che abbiamo adesso cioè appunto secondo me adesso se una persona pensa al pirata pensa a Jack Sparrow più di ogni altra cosa poi tendenzialmente cioè io mi vado un po' sulla generalizzazione delle cose non è detto che poi sia così però penso beh sicuramente super iconico quindi qualcosa di quello che si vede in Pirati dei Caraibi però è vero qualcosina e sì qualcosa sicuramente tutto no qualcosa però però sì ecco ecco per esempio la camminata sulla passerella in realtà quella non esisteva non era una tortura che i pirati mettevano in atto perché non aveva in realtà più che una tortura era una condanna a morte perché gettare un uomo in mare così era proprio una condanna a morte testimonianze che ne abbiamo forse tre in tutta la storia che non da pirati ma da marinai tra l'altro e quindi quella non era una cosa che veniva fatta e lì probabilmente è stato Peter Pan a portarla un po' alla luce della ribalta no e poi l'è stata ripresa da Pirati dei Caraibi però non era una cosa che i pirati facevano quella insieme all'uncino tutta colpa di quella insieme all'uncino che la vedo molto dura in effetti sulla nave all'uncino quindi non avevano neanche l'uncino eh no non avevano neanche l'uncino niente siamo disperati Giuseppe ci sta crollando tutto qua eh lo so lo so qualcuno che avrà perso una mano si sarà stato sicuramente 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 ma erano all'ordine del giorno queste cose però appunto sostituire gli arti con qualcos'altro la vedo un po' difficile onestamente però può essere può essere solo che nessuno ce l'ha raccontato direi che tutti i miti ci sono crollati l'uncino era il mio ultimo baluardo eh lo so bene allora grazie mille a Veronica per queste tutte queste informazioni e appunto come abbiamo detto questa è soltanto magari la punta dell'iceberg se volete informarvi di più possono trovare pane per i loro denti su tutti i tuoi canali social ripeto il nome vabbè se ti chiami Andert Jolly Roger su le principali piattaforme ci si potrà passare le ore con le varie storie e grazie a Manuela grazie grazie per averci ospitati su questa bagnarola allora noi ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Cica ciao ciao